Intervento dei vigili del fuoco di Arco stamattina a Chiarano per domare le fiamme da un'auto che ha improvvisamente preso fuoco durante la normale marcia. Il conducente era diretto verso il centro, quando ha notato del fumo uscire dal cruscotto. Il tempo di accostare a fianco della chiesetta di Chiarano e scendere dall'auto che le fiamme invadevano l'abitacolo. Immediato l'intervento dei pompieri di Arco, che hanno domato gli ultimi focolai dell'auto, ormai ridotta ad un rottame.